Factotum è una piattaforma di gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente. È molto efficiente perché permette la condivisione di informazioni fra i diversi ambiti della città metropolitana, consente ai presidi e a tutti quelli che hanno bisogno di segnalare necessità di manutenzione e soprattutto a un'interfaccia grafica web efficiente. Concludo dicendo che utilizza le credenziali Speed per accedere.